Salerno, come altre città italiane, ha celebrato il giorno del ricordo in anticipo rispetto a quanto previsto la legge del 30 marzo 2004, che lo istituì per conservare e rinnovare il 10 febbraio la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe dell'esodo alle loro terre degli striani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Una data non casuale che ricorda la firma nel 1947 del Trattato di Pace che assegnava la Jugoslavia all'Istria e la maggior parte della Venezia Giulia. Eventi che portarono all'esodo, come dicevamo, cioè la diaspora forzata dalla maggioranza di cittadini di etnia e di lingua italiana negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si verificarono anche i cosiddetti infoibamenti, cioè l'uccisione di militari, poliziotti, impiegati civili e funzionali statali o semplici cittadini nelle foibe, cioè le caratteristiche cavità carsiche della zona. Il prefetto di Salerno nell'occasione ha consegnato due medaglie commemorative ai parenti del finanziere Nicola Pacella, originario di Postiglione, inviato in servizio presso un distaccamento vicino fiume che nella notte tra il 12 e il 13 gennaio del 44 venne catturato insieme ad altri commilitoni da partigiani titini e da allora non se ne ebbero più notizie. E quello fu un momento particolarmente tragico perché vide la deportazione dei nostri concittadini e vide che nell'accordo, nell'armistizio che ci fu, vi furono delle vittime anche dopo la guerra e queste diciamo le peculiarità perché le guerre sono sempre di per sé un fatto stragico per la storia dell'umanità ma lì avevamo un effetto che anche dopo il momento della guerra vi furono delle situazioni tragiche e quindi è giusto avere la memoria per sapere, per ricordare e per trasmettere questi valori. Quando si scelgono le armi, quando parlano delle armi, le vittime ci sono durante le armi, ci sono quelle direttamente per le armi ma anche quelle dopo. Quindi la strada delle armi è sempre di per sé da capire che è quella sbagliata. A rappresentare il comune di Salerno invece la consigliera comunale Pachi Memoli, toccata direttamente dagli eventi della seconda guerra mondiale, in questo caso per aver avuto un parente internato a Dachau, pagine di storia che si sovrappongono. Oggi ho avuto l'onore di rappresentare il sindaco in questa celebrazione che poi non è una celebrazione in memoria, ricordo ma è soprattutto uno studio di quello che è accaduto nel passato e questo passato è stato raccontato da mio zio Antonio Iacuzzo che è stato un deportato nei campi di Dachau. Lui ha scritto un libro ed ha girato per le scuole con i ragazzi per raccontare l'orrore che aveva vissuto a Dachau. Quindi per me oggi è veramente una grande emozione partecipare a questo evento perché ricordo tutti i racconti che mio zio mi ha fatto. Mio zio l'abbiamo perso ad agosto, aveva 95 anni e tutti in città lo ricordavano ma soprattutto ricordavano Antonio Iacuzzo perché ha avuto il coraggio di girare per le scuole, di raccontare ragazzi e fare in modo che questi crimini praticamente non avvengano più nel mondo.